E' un plasticone con te, ma è solo tempo, eh? Salve a tutti ragazzi, ancora una volta bentornati sul canale di LeonTrip e bentornati in un nuovo episodio di DETROIT BECOMMING DEMENESS Siamo con Hank e riprendiamo dove ci eravamo lasciati l'ultima volta Noi stiamo sempre in macchina, porcaccia la miseria, ma che cazzo fa? Come so, sono instabile Fa peluccia Chicken Ah Vuoi puntare? La tua ultima dritta mi ha fatto perdere una settimana di paga E dai, stavolta è diverso, 100% garantito, col sicuro Si? Si, certo C60 100 personalità degli alimenti Eh, rinnovo rifiutato Vabbè Scusate, chi è lui? Argo Ah Pedro, vabbè Nascita il 25-2005 Disoccupato, precedente gioco d'azzardo illegale e frode Vui chi è? Chi è? Yes Grey Apprenditore, precedente di resistenza all'arresto, mancato osservazione delle armi genico-sanitarie Mmm Cavolo che gente per bene Tenente Anderson, vabbè Tu vuoi la tenente... Cacchè ce ne frega Scusate, lo sappiamo che il tenente è adesso su questo Perché dovremmo muoverlo? Ok, ci sto Alla grande Ehi, non te ne pentirai Eh Ma vediamo che cacchio fa il cavallo Ma che problema hai? Mmm Perché non fai come ti dico? Non seguirmi come un cagnolino del cazzo No Scusa Mi scuso per il mio comportamento alla centrale Non volevo essere scortese Che roba Ti hanno messo anche il programma scuse da lecca culo Ma Cyberlife ha pensato proprio a tutto Ebbè Ebbè Ecco... Eh Soda XL 710 Kcal Zucchero 180 Kcal Mamma mia Aderite carbonica Ho frutto della passione Ananas Salutare Questo invece è più salutare Hamburger 1680 Kcal Grassi Telegami Carboidrati Acqua Vabbè Scusiamo tutto Vabbè Non lasciare lì qualcosa Ah Non preoccuparti Mi segue ovunque Ebbè c'è stavolta Attenzione Vai così Passa il dischetto Vai che c'è È lui Forza E corri verso... No Placcalo Buttalo giù Porca miseria Difendete Difendete ragazzi Difendete... Vabbè basta Ho già visto come va la partita quindi Buono Eh mi sta fame comunque Buon appetito Buon appetito Grazie No colesterolo no Ma gli rompiamo le palle Dai compagnia Ma credo che i suoi amici siano debiti ad attività illegale Ognuno tira avanti com'è meglio crede Finché non fanno del male Non mi inficio Ok giusto Autostrada Mentre inseguivamo quei devianti Perché non mi ha fatto attraversare l'autostrada Potevi finire ammazzato Eh Odio riempire moduli per l'equipaggiamento danneggiato Eh sì Vabbè dai Cioè vabbè in fondo In fondo E anche android riguardo a Connor No anche android Posso farle una domanda personale tenente? Sì Perché odia tanto gli androidi? Ho i miei motivi D'accordo Vabbè riguardo a Connor C'è una cosa che vuole sapere di me? Io no Anzi Sì Perché avete questo aspetto scemo e questa voce del cazzo? Gli androidi sono progettati per operare in armonia con gli uomini Sia il mio aspetto che la mia voce Sono concepiti per facilitare la mia integrazione Allora che fatto Eh vabbè Vabbè devianti Forse vuole che le dica cosa sappiamo dei devianti? Mi leggi nel pensiero Prego Crediamo che il software di alcuni androidi sia afflitto da una mutazione Che li porta a emulare le emozioni di un umano Falla facile Grazie Non provano vere emozioni Si fanno travolgere da istruzioni razionali Che inducono comportamenti imprevedibili Ok Le emozioni mandano tutto a puttane Questo è vero Non sono poi cose diverse da noi Ti sei mai occupato di devianti? Si Qualche mese fa Un deviante minacciò di buttarsi dal tetto con una bambina E io l'ho salvato Scommetto che hai fatto i compiti, vero? Svolgere indagini sulla mia vita Beh Veramente no La verità So che al diploma è stato il migliore Si è distinto per il suo lavoro Diventando il tenente più giovane di Detroit So anche che ha ricevuto vari richiami disciplinari negli ultimi anni Che frequenta spesso i vanni Quindi dove vuoi arrivare? Niente Sincero Psicologico Sincero Con problemi personali sia un ostacolo Ma adattarsi all'imprevedibilità umana è una delle mie funzioni Che schifo Ho avuto un rapporto su un deviante sospetto Ha pochi isolati da qui Diamo un'occhiata Si finito però il blam Eh ok finito l'hamburger però eh Eh Sparati questa dai Hank Dai Che ci andiamo Eh beh Si Che senso? Facevo rapporto alla Cyberlife Ah Hai deciso di accamparti nell'ascensore? No No andiamo Si Eh andiamo però Cosa ne sappiamo di questo tizio? Non molto Un vicino ha detto di aver sentito strani rumori provenire dal suo piano E allora interroghiamo al vicino no? Ma pare che qui non ci viva nessuno Ma ha detto di aver visto un uomo con un led sotto il cappello Oh cazzo Piume Ci tocca indagare ogni volta che qualcuno sente un rumore Servono altri sbirri Eh già Stavi davvero facendo rapporto prima nell'ascensore? Certo Solo chiudendo gli occhi Esatto Cazzo Quanto ti invidio Eh Vabbè dai proviamo qua È l'unica porta ragazzi Bussa C'è nessuno C'è nessuno C'è nessuno Bussa C'è nessuno Ah più forte Aprile polizia di detroit Eh no così no però Hank Hank sarà Sarà contrariato no Ah no invece Oh cristo Ma perché mi cambi cazzo le inquadrature? Non me le cambiare Eh Momento Eh aspetta 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 Hank No 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 Aspetta aspetta No cazzo ho detto aspetta Ma che cazzo è questo? Puzza da fare schifo qui C'è qualche colombo Per niente Sono già andato Momento Porca miseria apri sto cacchio di coso Non mangia Momento Qui Spostati Mi piacciono animali selvatici Ok Porca miseria RA9 Sai cosa significa? RA9 Scritto 2471 Cazzo le ha contato La stessa parola scritta dall'androide di Ortiz nella doccia Perché mi sono ossessionato? Sembra una specie di labirinto Giusto Scrittura ossessivo compulsiva Oddio prelievo Non lo prelevo Non lo prelevo No ragazzi non lo prelevo Ok Sangue blu Modello WB200 Va bene Biocomponente Disattivazione C'è un led sul lavandino E' ovvio che fosse un androide Nessun umano potrebbe vivere con dei piccioni del cazzo Ma scusate è la scritta ossessivo compulsiva qua? Ah no niente Dovevamo farlo prima? Sul serio dovevamo farlo prima? No analizza E' sempre Ah no Ok Andresti da analizzare Vai Videnziatore aperto E' uno sgabello rovesciato E' uno sgabello di legno Ricostruisci Ok Questo è proprio di recente Un momento E' corso in soggiorno Basta Questo Ok Si ma sono miliardi Cioè Analizza Analizza Cambio st'inquadratura E analizza qua Ok Graffi recente Ok Questo Impronte recenti Eeeh Gancio di metallo Fiamo ricostruire Ah l'ha urtato lui questo Ok Eccolo Ci ha sentiti entrare E' ancora qui E' ancora qui Smaschera il sospettato Ma non c'è niente Aspetta Scusate ragazzi Non c'è più niente da guardare qua Qui invece si Libri di carta Pensavo di essere l'unico in città Allora Vai Cattura urbana Lembo di manifesto Sposta Prendi Non ha idea di cosa stia dicendo eh? No Che cacchio è? C'è qualcosa? Sì? Non lo so Sembrano degli appunti Ma sono Indecifrabili Ah Qui non c'è più niente no? Oddio lì si E lì si Che è questa roba? Giacca militare Va bene Una tessera Fake ID E' falsa? Per niente E' qui è l'ultimo giusto? Oh Cristo E' certo che gli vado dietro no? Sì io sono il re del parkour bimbo Bimbo Mix Vieni qua Vai Facile ma lenta veloce ma rischiosa Veloce ma rischiosa Scansiona Veloce ma rischiosa Scansiona Scansiona Ok Ok Non male che il tempo rallenta ragazzi Avanti Porca mia Dove cazzo Dove cazzo? Oh Cristo Veloce Veloce ma raro Um Veloce ma raro Veloce ma raro Veloce ma raro C'è chi No, lo dobbiamo prendere ragazzi, non mi devo sfuggire. Sbaffanculo. Ok. Questo. Diretta. Oh Cristo. E mo? No, Hank. Probabilità di sopravvivenza 89%. Merda! Oh cazzo, cazzo! Era nostro, cazzo! È colpa mia. Sono stato troppo lento. Dannazione l'avresti preso. Non importa. Sappiamo com'è fatto. Lo troviamo. Ehi, Connor. Niente. Beh. E va a finire che lo faccio diventare un deviante sto, Connor. Perché sto... C'è scritto probabilità di sopravvivenza 89%, che non è poco. Però, se noi valutiamo il valore della vita umana, ovviamente, quell'11% è anche troppo. Quindi, vabbè, ho fatto questa scelta e probabilmente se sceglievo l'altra strada, non credo che Hank morisse, però sicuramente avremmo catturato il deviante. E vabbè, ragazzi, è andata così e ognuno fa le sue scelte su questo gioco e questo è il bello di Detroit Become Humans, quindi... Diciamo che la mia era nel gioco così. Grazie a tutti per aver visto questo video. Noi ci vediamo alla prossima. Ricordate di iscrivervi al canale, di mettere un mi piace, di attivare la campanella sull'utilizzo delle notifiche, di iscrivervi al gruppo Telegram o di condividere questo video sui social network se volete supportare il canale e la serie. Grazie a tutti per essere stati con me. Ci vediamo alla prossima! Noi ci vediamo alla prossima!